Nel corso del 2021 Fileni ha deciso di apportare nel proprio processo produttivo un grande cambiamento relativamente al packaging. Per tutta la linea Fileni Bio abbiamo adottato un vassoio in carta totalmente ecosostenibile, carta riciclata e abbiamo appunto grazie a questo ridotto l'utilizzo della plastica. In più per quanto riguarda la linea antibiotic free, sempre a marchio Fileni, abbiamo deciso di sostituire il polistirolo con un vassoio completamente organico in Mater B e questo ci dà l'opportunità chiaramente di ridurre a sua volta l'utilizzo del polistirolo e della plastica. Per noi è un passaggio importante, epocale, ma che credo sia perfettamente consistente con il percorso strategico rivolto alla sostenibilità che il gruppo sta facendo ormai da anni. Uno dei benefici importanti per il quale abbiamo deciso di fare questo grande passaggio, comunque faticoso, è innanzitutto la riduzione della plastica, la riduzione dell'utilizzo della plastica e del polistirolo. Abbiamo ridotto, grazie al passaggio in cartoncini e in carta, di oltre il 90% l'utilizzo della plastica, ma ciò che ci preme di più è quello di sensibilizzare il consumatore che si può fare qualcosa per il pianeta, si può agire in maniera sostenibile anche nel day by day, nell'acquisto durante la spesa, nelle scelte che si fanno. Quindi la scelta di brand sostenibili è la scelta che noi speriamo possa in qualche modo avanzare nel corso degli anni e che premi tutte le aziende che decidono di avventurarsi in questo percorso virtuoso.